Bologna è una delle città più divertenti d'Italia, dove la gente ama incontrarsi, ballare, ma soprattutto vivere la notte. Bologna è una delle città più divertenti d'Italia. L'associazione Afroera, i nostri amici che collaborano ad un progetto più grande internazionale che si chiama Orchestra do Mundo, un progetto dove realizziamo musica, cd e quello quant'altro, per aiutare i bambini delle favelas in Brasile. Bellissimo, un'iniziativa bellissima. Invece siamo qui a Link, questo locale. Cos'è questo locale? Questo è un grande contenitore di arte multimediale. Qui si svolgono corsi di didattica legati al cinema, alla musica, tutto quello che fa arte e cultura. E qua si svolgono anche grandi concerti. Ma questo posto è nuovo, nel senso come puoi vedere un cantiere. Infatti io so che fra qualche giorno dovete inaugurare... Voi siete i primi, l'abbiamo inaugurato con voi. Cosa avete intenzione di proporgli? L'abbiamo associati, ci sono persone che vengono qua e fruiscono dello spazio, appunto per spettacoli, o per cinema, o per teatro, o per danza, tutto quello che può interessare alla persona. Insomma, musica, danza, arte, tutto, spettacolo. Io mi approfitto per ballare a questo punto. Lanciati nella samba. Vado. Prego. Però intanto io passo la parola a Luca e rimango qui a divertirsi. Ciao! Ciao!